Una Notte da Leoni 2. Trama, cast, trailer e data di uscita. Pronti alle nuove avventure di Phil, Stu, Alan e Doug? Dovresti esserlo, perché la seconda parte di Una Notte da Leoni uscirà il prossimo 27 maggio nelle sale cinematografiche italiane. Todd Phillips è ritornato per stupirci. Stavolta Stu è pronto a sposarsi, ma memore del precedente addio al celibato a Las Vegas è deciso a fare di tutto per non correre rischi. Così, chiamati a raccolta agli amici Phil, Alan e Doug, decide di partire per la Tailandia, dove festeggiare con un semplice e sicuro brunch prematrimoniale. Ma si sa, non sempre le cose vanno come previsto e l'arrivo in Tailandia darà vita a tutta una serie di eventi che nessuno dei quattro avrebbe mai potuto immaginare. Lo stesso esilarante cast a interpretare questa storia. Bradley Cooper, Phil, Edelms 2 Zach Galafianakis, Alan e Justin Barta, Doug. Esilarante è anche il nuovo trailer, reso da poco disponibile, che non fa altro che accrescere la nostra curiosità. In genere, quando un film riscuota un così grande successo, come quello di Una notte da leoni, si è sempre scettici al riguardo al sequel e si pensa non possa essere all'altezza della prima parte. Ma stavolta, dalle prime informazioni che abbiamo, pare proprio che è da attenderci sia una nuova, geniale e vincente commedia. Come recita il detto, ciò che succede a Vegas deve rimanere a Vegas, ma aggiungiamo, quello che succede a Bangkok non possiamo neanche immaginarlo. E dunque, ecco per voi il trailer ufficiale. Cosa ne pensate?